Si è svolto questa mattina nel carcere di Brindisi l'interrogatorio di garanzia del giovane di Pezze di Greco arrestato per l'omicidio stradale del 25enne di San Vito dei Normanni, Andrea Catamerò, ucciso da un'auto pirata che dopo l'impatto aveva proseguito la sua corsa. La vittima aveva trascorso la serata di domenica in un lido della costa ostunese, località Pilone, in compagnia di alcuni amici. Intorno alla mezzanotte il dramma, la Mercedes, che secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato della città bianca era guidata dall'indagato, aveva travolto lo sfortunato Catamerò, morto sul colpo. Le indagini dei poliziotti nel giro di poche ore avevano poi individuato e rintracciato il 26enne. Da qui l'arresto, il carcere, il presunto pirata, risultato positivo a cannabinoidi e cocaina e accusato di omicidio stradale aggravato e di omissione di soccorso. Mentre San Vito piange Andrea, giovane conosciuto e stimato, l'indagato, ristretto in carcere, dalla mattinata di lunedì è comparso davanti al GIP. Gli esiti dell'interrogatorio saranno noti nelle prossime ore. Sabato pomeriggio, dopo l'autopsia, saranno celebrati i funerali di Catamerò.